Inizia un nuovo anno. Finalmente penserà qualcuno. È come non immaginare, come non sperare in un anno migliore rispetto a quello che si è appena concluso. Ma la vita ci insegna che è inutile farci troppe illusioni. Tanti problemi, difficoltà economiche, di salute continueranno ad accompagnarci perché sono parte della nostra umanità. Allora cosa possiamo augurarci per questo 2021 che inizia? L'augurio più bello credo sia quello della liturgia del primo giorno dell'anno. Il Signore faccia risprendere per te il suo volto. Un modo per dirti che il Signore ti sorrida sempre, sì, che possiamo riconoscere la presenza di Dio accanto a noi in ogni momento della nostra vita, nella gioia, nel dolore, accanto a noi nella salute, nella malattia. E proprio la certezza di questa presenza sarà la nostra forza, la nostra pace. Impegniamoci a vincere l'egoismo che c'è dentro il nostro cuore, i desideri di pensare solo a noi stessi. Superiamo le barriere del sospetto, della paura per accogliere chi cammina al nostro fianco come un fratello. Solo con l'aiuto di tutti potremo realizzare un mondo migliore. Sant'Antonio sarà sempre al nostro fianco, il nostro amico speciale, il nostro, il tuo compagno di viaggio. Buon anno dei frati della Basilica e dal messaggero di Sant'Antonio.